Beh ragazzi come sempre eccoci qua prima del video, oggi siamo nel video delle due e mezza e ragazzi come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace per questa mod che ragazzi non è fantastica di più io come indizio vi do solo sta cosa qua, sta cosa qua, bravo, bravo, bravo Maglialino, bravo, 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 bravo Comunque ragazzi vi chiedo comunque di lasciare un mi piace e di iscrivermi sotto nei commenti hashtag MarciMod appunto per chiedermi quello che volete come altra mod di domani oppure di un altro giorno Vi lascio all'intro, bella Ciao ragazzi sono Marci e benvenuti nel video delle due e mezza ragazzi siamo qui con un mod showcase che mi avete richiesto veramente non in tanti ma in tantissimi ora spero che tipo da qualche parte venga fuori il commento di uno di voi che penso che sia non mi ricordo non mi ricordo sven o paolo non mi ricordo non mi ricordo comunque allora questa mod è la it fell from the sky allora potete immaginare cosa può mettere può mettere una cosa che cade dal cielo è caduto dal cielo no it fell from the sky però non vi potete immaginare che cosa mette questa mod allora io vi faccio intuire un compact raw chop e una nether star ci servono ma si la nether star è brutta mettiamo questo raw pork chop qua mettiamo una nether star sopra e vediamo tipo qualcosa che ci sta venendo addosso con un meteorite aiuto guardate il casino alcuni pezzi rimangono altri se ne vanno ragazzi ho paura che cosa può essere questa cosa cosa può essere aiuto si muove aiuto si muove ma che cos'è ragazzi è un maiale gica fa troppo c'è stamani fa troppo è un maiale gigante ragazzi che quando cammina rompe tutto è una cosa fantastica intanto che c'è il telefono madonna 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 c'è capite ma la cosa bella che voi non sapete che si può comandare guardate dai prendi su su prendi su dai e ogni volta ci vuole e questa è l'unica cosa buggata di questa mod che ci vuole un bel po' o che si riesca a prendere per proprio fare dai su che va troppo veloce non va veloce va troppo veloce ok ce l'abbiamo fatta siamo sopra il maiale zilla andiamo ammazziamo e spacchiamo tutto cos'è quella roba oh ammazziamo i cavalli ciao cavalli comunque ragazzi installarla è molto semplice non vi servirà purtroppo solo la mod del porco che sarà in the right fire from the sky ma avrete bisogno anche della itune anti il core sarebbe comunque vi lascerò tutti e due i link in descrizione io vi consiglio vivamente di provarla e di scrivermi qui sotto in descrizione un'altra modo da fare che potrei portare sempre domani alle due e mezza lo so che il video è stato corto ma questa mod me l'avete richiesta tipo in tantissimi e ho voluto appunto portarvela spero comunque il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace un commento e condividere il video ragazzi che penso di averlo spiegato nel video delle 11 è troppo importante quindi ragazzi noi ci vediamo domani sempre al 10 e mezza bella ciao 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 ciao